ho questo attacco vicino a rovico c'è da vent'anni non vuoi avere un esito e continuano a rinfruttare eh raga però in Egitto è un buono guarda qua che c'hanno usualmente una divisione butta butta fermarci andiamo più forza a fermarceli sì ragazzi ma quanti erano messe ragazzi in Italia però mi devo ritirare per forza ragazzi è preso Ferrara ragazzi ho preso mi sa mi sa che è preso Ferrara io non so come fanno ad avere i supply nemmeno io io non so come fanno ad avereci in Egitto c'è c'è boh siamo andati a due che? siamo a tre forse di sacco ragazzi forse sacco 5 divisioni russi io sacco forse 20 divisioni di russi sacco io ragazzi più di 20 forse vai vai più di 20 saccate saccate perché qua c'è bisogno di miracoli stiamo prendendo un po' di inculoni tranquillo ci penso io frate poi c'è bisogno di poi cazzo se vuoi iniziare a proviare delle regioni a destra o cazzo abbiamo se me ne mangio alcune non è che io dico di no 12 divisioni se vuoi se volete poi mettiamo andare nella zona di Venezia che è lì con l'opportunità si ok io direi chi no a sto punto però vedete in che senso si continua mi spiace anche a me lasciarla cioè non si capisce bene chi vince e chi perde qua purtroppo come siete messi di là voi? eh boh siamo ancora su siamo retrando ma abbastanza lentamente comunque in Italia avete mollato però eh beh sì perché se no ci inculavano in Turchia avete fatto qualcosa voi per darci la mano? noi avevamo divisioni in Germania noi avevamo divisioni in Veneto noi avevamo divisioni in Terronia avevamo divisioni in Russia nel Caucaso cioè in Egitto in Persia quindi non so non so io penso che tipo la Turchia abbia fatto il main del del gruppo in questa partita perché non ho mai visto la Turchia dispensare truppe così ovunque no ragazzi c'è la Francia nell'Italia quindi non so bene secondo me dal prendere le banane siamo passati tipo a inculare l'Italia non voglio aiutare mezzo mondo cazzo troppo l'ora spero in Caracas è uno bello sbarco c'è Turchia Bulgaria possiamo fare l'assimario e si attaccano credo che si possa o la sigla in inglese non dobbiamo adesso se noi cioè noi dobbiamo pensare non è bene in inglese c'è un po' è un po' il cosa è l'altra cioè voglio dire fra un colpo di scena qua fra un colpo di scena la eeeh cioè è stata molto movimentata come partita fino adesso mi piace solo mirko devi prendere divisione della russi portarlo in un benzo beh siamo in 13 comunque a fin fine mirko alcuni player non ci sono stati però siamo in 13 non mi dai gli ordini eh eh sì di nuovo gli riprendi sta laggando di brutto io non capisco non mi dai gli ordini è la moda ragazzi è la moda ragazzi mi sa che stanno finendo la partita mi sa che stiamo per crashare qualcosa del genere perché no 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 io dico mi voglio non attaccare in egitto di sconfitta io dico beh abbiamo inflitto più perdite ma non dico dalla vostra parte dico dalla ma giusto vediamo che sta facendo il finger ai tedeschi il problema è che il gioco va talmente dando in ritardo che non posso fermare gli attacchi letteralmente non riesco a fermare l'attacco dei miei soldati che stanno perdendo no anch'io non riesco a dargli l'ordine io vorrei tipo fargli una sacca per esempio in un punto perchè mi sa che la sporica sta laggando e se ha laggando impossibile no no se lagga lui ci andiamo allo stesso tempo mi chiedi che attivare full blow no ma infatti secondo me è colpa di sbrega fiori mi chiedi che in veneto c'è un manicone ragazzi non so che cazzo sia full blow oh ho chiuso tutto se l'algo adesso non so cos'è si ho chiuso tutti perchè possiamo andare alla tua e paracchia sulla questa gioca ci sta che ti scarichi video mentre giochiamo da guardare eh germania come andrà russa dai oh attacca qua germania abbiamo le divisioni buone per attaccare ma gliele divisi sopra in egitto cristo perchè stanno provando a sfondarmi in siria ormai chi è che può darci mashingan? si ci siamo mashingan ve prego mi possono dare cioè il 1.5 vai 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 ci riempiresti siamo sotto di 1.2 siamo sotto di 1.2 quindi anche mirko se ci vuoi mandare 800 mashingan vanno anche già bene perchè siamo sotto di 1.2 e qui non riposo per ricevi divisioni grazie ma ecco io vi devo chiedere quanti armi aviete eh aviete si avete 220 cap no è perchè io non ho meno 30.000 armi chi sei? a bulgaria dagli no rega mi stanno mi stanno bombardando come stai facendo domani chi? chi è ieri? i francesi quel cazzo ieri i francesi? oh beh noi non abbiamo fatto aerei ragazzi è perso è perso perché non lo stiamo facendo mai noi ce l'abbiamo gli aerei ma no basta anche io ho fatto un po' di aerei non sta tornando ancora mi ha venuto di diffondere ma fa prendere gli ordini si sta impallando troppo eh cosa? si sta impallando troppo non so se è colpa tua che cosa vuoi che ti dica? eeeh ma non mi ricordo che l'altra volta eh eh esatto no dico anche quando stavo io sei mesi fa magari è perchè è cambiato qualcosa non lo so però non mi ricordo che che faceva perchè non c'è la fallback la intorno? perchè non mi fa mettere il comando? manca a me rega ma è un mo' bestemma sono qua che sto provando in Egitto a fare dietro il fiume c'è un po' oh ragazzi mi stanno per saccare ragazzi ma non devi saccare dove? mi stanno saccando in Italia oh dio a ferrare cc perchè la gica sta lag ma aspetta magari ci stiamo tutti riprendendo no perchè ti spiego anno il 23 di agosto per esempio non è il 27 però non segna non ci segna ma è quello che a me segna che siamo al 28 ma anche a me però se guardi nella nella lista dei player cannolo siciliano è il 23 c'è scritto 23 di agosto quindi probabilmente io sono il 23 mi spinta che sono il 17 poi in realtà sono il 25 e ci sono tre numeri diversi cioè il discorso qual è che secondo me no no rega vogliono sbarcare vogliono sbarcare eh ma non hai messo niente nei porti? cazzo 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 vabbè ok va bene la fallback line questa così no sbrega sì ma mi sa che c'è la overrun perchè non abbiamo supply allora facciamo la nel fiume dietro? cioè il fiume dietro sarebbe potremmo metterlo lì eh sì ma è attaccato all'Egitto cioè all'Egitto mi ha attaccato la alla parte a destra no ci stanno cazzo adesso ci stanno pushando in Persia di tanto eh lo so l'ho visto l'ho visto Don l'ho visto Don ma le 30 divisioni bulgare no che prima sono morti in Calabria se adesso fossero tipo vabbè ok scusa non è colpa tua bulgaro però bulgaro tu hai no è colpa mia no scusami bulgaro tu hai 13 divisioni a Costantinopoli adesso io voglio che quelle 13 divisioni lì le prendi e le porti eh in Persia eh il confine con cioè il confine eh che abbiamo con gli inglesi in Persia allora io in realtà quello là l'ho messo come come divisioni portuali eh però ma ok forse possiamo spostare noi perchè vedo che qua abbiamo un sacco di divisioni che non stanno facendo un cazzo le piazze in Persia perchè guarda ci in culo non so scusate sono tutto emozionato portate pazienza non sono così no ma siccome in questo caso no cazzo non è bucato ragazzi dai chiedono i francesi i francesi ragazzi non vorrei dirvi eh i francesi mi stanno rompendo un pochino nel culo ok ma voi non eravate tu non eri un magico uomo delle sacche eh stavo taccando per arrivare dalla Francia non eri un pochino non eri un pochino in aria ma te l'ho detto te l'ho visto e caspita stanno perché ha lasciato il gioco di nuovo basta ragazzi io ho salvato 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 è cresciato il gioco ragazzi comunque no non si può più giocare mi sa che la moda è andata a fare in cubo google wagen no ragazzi ma io è arrivato a bologna poi la Francia è arrivata e mi ha distrutto che cazzo stai dicendo? si pure deutschland punto e basta si dice così è una cosa quindi no no non ci gioca più ragazzi ma ragazzi l'Italia c'ha tipo un pochissimo manpower quindi cosa succede? perché gli spettatori a casa quando vedranno questo video devono capire che cazzo è successo alla fine perché c'è panico nella guerra ah raga mi è cresciato eh bellissimo tipo a un certo punto basta ragazzi mi spiace è finita la partita così chi vince non si sa no cosa no io non l'accetto chi vince? comunque io ho salvato 4 milioni di perdite per i poteri centrali e 6 milioni di perdite per il potere dell'intesa sembra veramente la vita reale perché c'è veramente uno stall si capisce chi deve vincere oppure no appena entrano gli stati uniti che non ci stanno comunque tutti quanti iniziano a non avere più carte da giocare quindi comunque iniziamo a sentire il peso delle perdite il peso dei vari fronti in realtà donne noi adesso perché ci stanno riattaccando i cose inglesi perché essenzialmente noi carte da giocare ne abbiamo soprattutto in Russia possiamo farle ancora molto male il problema è che finchè finchè ok però a questo punto ci serve una mano a noi ci serve una mano a noi in tutto ma va che se noi fossi se noi riuscissimo a trovare il tempo cioè noi potremmo darvi un sacco di iuti un sacco di cose salve no 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 quelle l'ha buildata bene più che al tanto ci hanno si beh ci sfondiamo un sacco anche reclutare ne stia reclutando tipo 15 vabbè oh io adesso non so che cosa succederà a questa campagna casomai da chiudo la registrazione qua qualcuno deve dire qualcuno vuole dire qualcosa cioè ragazzi guardate tutto ho aiutato i turchi mi piace io nel caso vi dico che sto facendo gli aerei ma è tardi ma non servono gli aerei li stiamo producendo già noi no vabbè sono stati cal bomber grazie 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 grazie